Musica Bella a tutti ragazzi, oggi vi facciamo vedere gli streghi di Moon Con me c'è Sam Sniper Shot Per prima cosa facciamo sti memo di merda Io tiro a caso perchè non l'ho visto Stupido Timsy, ora dobbiamo riprovare Merda Ah, mi portai le gambe Stadione Crefone, seguitevi Petsin, che assaggia mi stivane Ah, mi portai le gambe Ok, quando vengono tutti verdi Ci siete Adesso vi serve Allora, dovete aver fatto prima gli streghi di Call of the Dead E di Shangri-La Se no, non mi fermo un cazzo Poi vi serve la Ray Gun, la Wave Gun Ci hanno tutti e due lui Perchè è un incolato di merda E i Qued che ce l'ho io Sì, lui c'ha la Wave Gun e la Ray Gun Sì, sì, bravo, ti senti figo Allora, poi vi servono i buchi neri Che non abbiamo ancora trovato Allora, dovete Fate i memo poi Aspettate la scavattice P Che rompe il tunnel qua Dove sto passando io adesso La fermate Dopo che è rotta E vi esce fuori sta pallina qua Perchè non riusciamo a raccoglierlo La accoltelliamo La seguiamo Mi si fa tutto un bel giro Ehi, è divertente Vattene, brutta merda Boh, si ferma lì Assomiglia al golf Ma senza mazza e pallina A parte questo è esattamente Adesso la palla va fino in cima Con l'antenna Gli sparate con la Wave Gun Unita Unita, unita, sì Non le doppie, mi sto da raggi Unita Dai Se la prendete Arriva da questa parte di qua Eccola qua Oh, avevo dimenticato quella porticina Mi infastidisce Silenzio Prendi l'uovo Giustizia è fatta Adesso si ferma qua sopra O gli sparate con la Reagan O gli ho tirato una granata Sparli un po' con la Reagan Facciamo via Ma senza mazza e pallina A parte questo è esattamente uguale Adesso vi sputano i soldi Perché li trova i buchi neri E la palla arriva qua Sì, bravo Adesso speriamo che non ci sia il bastardo rosso Non mi pare che l'abbiamo fatto esplodere Adesso dovete venire qua E cercare l'hacker Ok, dopo lo prendo Allora, vieni qua Lo prendiamo in due Perché così facciamo prima Uno, due, tre Ok Adesso Scendete qua sotto Hackerate uno di questi quattro pannelli Non importa quale Costa 500 punti Adesso si accendono Quattro di queste lampadine luminose verdi Sui quattro piani Sui tre piani Scusate Le hackerate Questa non costa Quanti ne hai fatte? Ok, l'abbiamo fatto Ce ne sono quattro Se ce l'avete fatta Si aprono i quattro Intervist, questi cazzo di cose qua E li accendete in sequenza O da lì come ho fatto io Oppure per così è uguale Se si chiudono i lumini Le lampeggiano tutti Ce ne siete Adesso il tubo Dove cazzo è qua? Eccolo qua Il tubo è su uno di questi tre piani Questo coso qua Lo prende con un po' di grado Perfetto Mi tornerà utile Adesso Andiamo sotto Questa è la verga Eh già Cioè no, che verga Non abbiamo i buchi neri Ce l'hai? E allora Prendi la tuta Allora adesso la palla Si incastra lì dentro E si apre questo tubo qua Dovete riempirlo Con 25 anime di zombie Mi pare Comunque deve essere pieno Tutto verde Come vedete adesso Cioè L'ha preso Ma non importa Adesso noi vi facciamo vedere Quando è pieno Si potrà azionare Questo interruttore Basta cassa La carriano i zombie Ma sì Come le punte Vabbè comunque Dovete ammazzare Il più vicino possibile A sto tubo di merda Posso difendermi Perché sto da raggio Qui sto da raggi d'occhio Ecco vedete che si sta riempiendo di verde Vabbè è arrivato lui con la Reagan Che si sente più bravo Minchia c'è il tipo dietro Minchia ma quello è piccato Ammazzalo con la Reagan Cazzivo il tipo dietro Bella Perché io c'ho un'arma troppo scarsa Avanti così Si sta ricaricando Ma che cazzo Ma dai Ma non è possibile Cazzo 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 Vaffanculo Cazzo Con il CZ Andiamo sulla terra Andiamo dopo Andiamo dopo Appena abbiamo i buchi neri Vabbè è campo lo stesso Come al solito Io crepo sempre Quando facciamo sto pezzo Non so come mai L'abbiamo fatto altre volte Crepato sempre qua Vabbè Appena è pieno Comunque potrete azionare Questo interruttore Noi non lo azioniamo Perché così dopo è più facile Vi consiglio anche a voi Di non azionarlo L'attento dietro Ok E' pieno Oh ce ne andiamo da qua Cercate un pulsante O un interruttore Che vediamo Apparami il culo Mi chiamavo Due colpi Io me la batto Vabbè Comunque adesso è pieno E appena troviamo i buchi neri Vi facciamo vedere Cosa dovete fare Allora ragazzi A lui gli sono usciti i buchi neri Cioè Sono usciti a me Gli ho hackerati E se ne hai presi lui E adesso dovete andare sulla terra Andiamo Andiamo Vi servono i buchi neri E una granata Qua sulla terra Allora La granata Noi l'abbiamo già tirata Comunque dovete tirarla lì E cadono le piastre E lui tira il buco nero E vengono risucchiate le piastre Sempre si Io prendo Jager Perché l'ho preparato Adesso le piastre sono lì dentro Dai andiamocene Ok Adesso le piastre sono qua Li tiro sopra un qued Oh è esattamente ciò che E finiscono qua Li mettete il tubo Ci siamo quasi E la verga Quasi Ecco lì Distrai lo zombie Adesso Io ero Richtofen Adesso dovete premere quadrato Tante volte sul computer Oh merda Ho tirato una granata Non è vero Quindi nessuno la indovinerà Vabbè Voi continuate a premere quadrato E verrà verde una volta Poi Maxis parla E torna rosso E dovete premere sempre Finchè non viene verde La seconda volta E poi ci siete E' tale Richtofen Ok E' stato molto verde Adesso c'è Maxis E' continuato a premere quadrato Un attimo mamma Sì sì E' arrivato a 9000 punte Giuntando la piramide Ok Adesso la verga Diventrà luminosa E' mio Finalmente E' mio E' mio E' mio Sì 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 Allora adesso Andiamo sotto dai Tuta Con questa non sentirò più Adesso andate la piramide Sì adesso mi invito Io Ho funzionato Passiamo alla fase 12 Sì va bene Adesso alla piramide Adesso noi abbiamo qua il cilindro Aperto Quindi adesso Adesso andate giù la piramide Noi ammazziamo lo zombie Ammazziamo un po' lo zombie se lo trovi Comunque adesso Quando arrivano gli zombie Accestionate l'interruttore Così vi dà le macchine mortali E potete riempire Perché adesso si alzano tutti e quattro cilindri E con le macchine mortali Vi è più facile dai Dai seccalo Ah ce l'ho io Perché Non pigliare la cacola Dai vieni qua sotto Adesso Si esce Samantha Vai dall'altra parte genio Mi dà le macchine mortali E si aprono i cilindri Puttana Puttana Troia Eh se come prima Santo che ce ne sono quattro Vabbè adesso tagliamo Perché se no Ci mettiamo tre seguori Non ci riuscirai mai Appena sono pieni Vi facciamo vedere Allora ragazzi Scusate se ho tagliato la parte Perché mi sono dimenticato Di accendere la telecamera Comunque si sono riempiti tutti Fa lo stesso suono Di quando Riempite solo uno E poi Richthofen Cioè io Ho messo la verga d'oro lì Che male Che male E adesso Io come Richthofen Mi sono preso tutti i bonus Infatti se guardate Ce l'ho tutti Adesso Ce la battiamo E Lasciamo lo zopo E vi facciamo vedere Come far ottenere agli altri I bonus Allora ragazzi Abbiamo Su queste munizioni Quindi lui ha due buchi neri E dovete tirare un qued Lì Diciamo la palla Ovviamente è andata dietro Ok Adesso Torniamo all'inizio Perché salto così lentamente Adesso Bisogna Fare i memo Tre volte Li fa lui Perché io sclero Fali tu Ah no Vabbè Ti dàvo il buco nero lì Sì Uguale Se lo fate prima o dopo È uguale Vabbè La palla viene sparata via E bisogna fare i memo Tre volte Ah Fali tu Non capisci niente No Non ho capito niente Sento lontano Io faccio due compiuti E tu fai altri due Ah va bene Tocca a te No Minchia Ma ti scena Dai Ti faccio dato Non è Vabbè Fai così Che è meglio Vabbè Comunque Una volta che avete fatto Ogni memo che finite Ce ne sono tre Esce fuori un missile Io ti accenzo il giallo E mi ti accenzo il blu È quello che ha fatto a me prima Comunque Si alzano quei missili Ah Non ho pensato di fermare la scavatrice Vabbè Non mi importa Devo trovare subito delle munizioni Sì Un affatto Ok E si alza il missile Siamo accorto di munizioni Sì Vabbè questa parte Non è Inpertinente Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' difficile, cara. Di cazzo di zombie hai fatto? Non mi toccare. Scorescente, fai da Nicolai. Fai da Nicolai. E basta, mi vai il zelletico. Micia, Samantha è proprio feroce. Comunque adesso Rick Toffa viene impossessato da Samantha, per quello che parla così. Allora, non mi devi rompere il locale, vale. Ah, sono pure morto, vabbè, non ti posso fare lo stesso. Stiamo mandando un messaggio, zombie bastardo. Non hanno neanche rispetto. Comunque se morite, cioè i bonus ce li avete lo stesso. Anche se morite del tutto, cioè quando rientrate però il round dopo ce li avete lo stesso. Eeeh, basta. Non so, l'astronauta te li toglie i bonus. Non so, l'astronauta te li toglie i bonus. Non so, l'astronauta te li toglie i bonus. Giallo, rosso, verde, verde, giallo, giallo, giallo. Ok. Adesso i tre missili partono e vanno a distruggere la terra. Quando arrivano e distruggono la terra, l'altro giocatore, cioè quelli che non sono Richthofen, in questo caso lui che è Demsei, si piglia i bonus. Eeeh, come Richthofen, quando se muoiono non succede niente. Sì, mamma, arrivo. Sì, mamma, arrivo. Sì, mamma, arrivo. Eeeh, un attimo. No, 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 sì, vabbè. Se si muovono così posso andare a mangiare. 30 secondi, troppo tempo. Dai. Facciamo prima io di corsa. Ma tu dai, ti dico che sto sparando i raggi. No. Merda. Spero che non abbiamo fatto un casino. Te la è debita. Ok, adesso comincia tutto. Eeeh, la terra è distrutta. Se tornate sull'area 51, cioè con teletrasporto, c'è tutto come prima, soprattutto che è tutto arancio. Eeeh, boh, spero vi sia piaciuto il nostro tutorial. Eeeh, io che sono sfigato, che muoio mentre mando i messaggi. Eeeh, un bel mi piace e vi linkerò il canale di Sam, in cui mette gameplay di Modern Warfare 3. Giusto Sam? Per il video non mi piace tutto e mettete mi piace. Ecco. Quindi, bella a tutti, al prossimo video.